Sabato pomeriggio abbiamo avuto l'Assemblea Provinciale delle Proloco di Pesaro Urbino è stata per me personalmente ma credo per tutte le Proloco una grande soddisfazione soprattutto avere la presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Pesaro Urbino il Signor Questore, il Comandante dei Carabinieri, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco che sono venuti a darci manforte e essere vicini alle Proloco questo per noi è molto importante, è molto importante anche perché le Proloco svolgono non solo attività di promozione e accoglienza turistica ma stiamo svolgendo anche attività di promozione sociale perché le Proloco tolgono i giovani dalle strade, quindi li andiamo a prendere nei bar chiediamo di iscriversi alle Proloco, cerchiamo di portarli nel mondo della cultura, della conoscenza dei nostri borghi e questo sicuramente è un valore importante aver avuto queste personalità anche il Vice Presidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi il Vice Presidente dell'Umpli Marche proprio perché hanno testimoniato la nostra forza, la forza delle nostre Proloco in questa Assemblea è nata la volontà di un documento che sarà inviato al Governo centrale quindi un appello a tutti i parlamentari perché si snelliscano un po' le norme di sicurezza sulle nostre manifestazioni perché veramente rischiamo una paraligi e vorrei concludere con il ringraziare tutte le Proloco e in particolar modo mi sento di ringraziare la mia segretaria che è la mia, la segretaria del Comitato Provinciale che è il braccio destro dell'Umpli Peso Urbino, Laura Silvestroni alla quale assieme al Prefetto abbiamo consegnato un mazzo di fiori come dono e riconoscenza per l'impegno proficuo, profondo che mette sempre nelle Proloco Grazie